In tanti hanno risposto all'invito dell'imprenditore Attilio Fiorillo, tanti bambini accompagnati dai loro genitori, tutti presenti, puntuali all'appuntamento all'Idola Playa di Vivo Marina per una giornata dedicata ai temi ambientali, tutti insieme a tutela del mare. L'idea di Attilio Fiorillo, che dedica il suo tempo libero a stimolare i più piccoli verso quel senso civico che ormai gli adulti sembrano aver perso, è stato accolto con entusiasmo presenti i rappresentanti di Lega Ambiente WWF e soprattutto presente il Vescovo della Diocesi, Monsignor Attilio Nostro, in un clima giocoso e sereno. La partecipazione di tanti bambini, i temi ambientali bisogna partire soprattutto da loro? Assolutamente, la cosa più bella è il fatto che i bambini hanno questo approccio alla natura molto naturale, molto tranquillo, molto diretto, molto immediato, molto trasparente ed è bellissimo trattare insieme con loro questi temi perché sono sensibili ad un mare che non sia sporco, che non sia macchiato, che non sia inquinato. È bellissimo vedere nei loro occhi la speranza che questa Calabria, che questo territorio possa essere una realtà pulita in tutti i sensi. Ci siamo accorti, c'era molta tensione, soprattutto tra i più piccoli, la voglia anche di fare qualche domanda, vuol dire che c'è questa sensibilità spiccata già? Sì, ho detto ai bambini che anche in tante scuole, tanti insegnanti, tante mamme, tanti papà si stanno dando da fare per sensibilizzare i propri figli a queste tematiche che per noi sono sempre più importanti, sono fondamentali perché noi mangiamo, respiriamo, nuotiamo in questo ambiente ed è importante che questo ambiente sia pulito e noi dobbiamo proteggerlo. È stata soprattutto una giornata di festa, vissuti in allegria come solo i più piccoli sanno fare che si sono lasciati coinvolgere in esperienze dirette ed in conclusione con la presenza di Massimo Cappuccio, l'usinista che ha intrattenuto con i suoi spettacoli di magia a sancire il successo dell'iniziativa Lido alla Playa. Una giornata emozionante, una giornata incredibile, piena di entusiasmo, di sorrisi e tutto legato all'aggregazione e all'ambiente. Sono veramente felice. Spero di continuare, di avere quella forza giusta e di incentivare anche gli altri colleghi imprenditori ad aiutarmi, ad andare avanti, ad insistere perché sono i bambini il nostro futuro, sono i bambini che possono dare una nuova mentalità, una nuova cultura, soprattutto su temi importanti come l'ambiente ma anche ad altri. Abbiamo bisogno di nuove generazioni, di nuove mentalità e loro sono il nostro futuro. Dobbiamo esportare questo, non importare fuori. Dobbiamo avere la possibilità di cercare dai nostri bambini sempre di più di educarli e siamo noi, noi i promotori, i genitori, quindi l'invito è soprattutto ai genitori portateli in queste attività educative, cercate di essere presenti perché sono loro che possono costruire il nostro futuro, altrimenti resteremo sempre là, la nostra povera Calabria, la nostra povera Vibo Valencia, invece insistiamo, crediamoci, il futuro parte da loro e io ci credo, ci voglio credere e Vibo Marina c'è. Grazie.